Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi abbiamo delle nuove notizie che riguardano l'affascinante Jean Yaman. L'attore turco, ormai cittadino del nostro bel paese, negli ultimi tempi si è visto impegnato nella tournée della sua associazione a scopo benevolo nei confronti dei giovani. A questo tour si aggiunge una nuova data. Ricordiamo che Jean Yaman dal 9 marzo scorso ha organizzato questo tour, Break the Wall Tour, con lo scopo ultimo di aiutare i ragazzi a rompere il muro del silenzio e dell'indifferenza che si è appesantito a causa della pandemia. L'attore internazionale sta viaggiando in tutta Italia per parlare ai giovani ed ha anche stabilito la sua partecipazione al migliorino Design Store ad Andria, che realizza una mostra nella propria galleria d'arte e con l'occasione ospita, appunto, una tappa del tour benefico di Jean Yaman, Break the Wall Tour. Ma prima di continuare ricordati di lasciare un bel like al video e iscriviti al canale. Dicevamo che nel nuovo spazio inserito dedicato all'arredamento e rivestimenti per l'interior design saranno presenti con le loro opere artisti emergenti del calibro di Martin Lucchini, Sabino Galante, Monica Foglia, oltre a quelle di Gianluca Migliorino, SEO e direttore crearivo della Migliorino. L'esposizione sarà realizzata in collaborazione con la galleria d'arte di Pietrasanta Laura Tartarelli, Contemporary Art. Durante l'evento si terrà un'asta di beneficenza veloce relativa all'opera d'arte intitolata Digital Isteria di Gianluca Migliorino, che affronta il sensibile tema dell'abuso dei social media, soprattutto in ambito giovanile, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'associazione Jeanne Yaman for Children. Il nuovo spazio si propone sul territorio come punto di riferimento per eventi artistici e culturali, che vedranno ciclicamente la partecipazione di diversi ospiti di prestigio nazionali ed internazionali, cercando quindi di rappresentare non solo il luogo d'incontro, ma anche di condivisione di bellezza ed eccellenza. E l'evento si terrà il 12 maggio dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 fino alle 20. Jeanne Yaman è anche tornato in Sicilia, terra amata tantissimo dall'attore. Jeanne si è recato a Ragusa per una tappa del Break the World Tour, di cui stiamo parlando e anche questa volta e in questa occasione ha marcato il suo affetto per la nostra isola e infatti ha dichiarato di essere molto felice di tornare nella sua amata Sicilia, annunciando così la sua presenza in Sicilia per la tappa del suo tour. L'Istituto Tecnico Commerciale Aeronatico Fratelli Besta ha affrontato il tema della vergogna giovanile e Jeanne Yaman a tal proposito ha detto di aver notato un forte coinvolgimento in quell'occasione, tanto da farlo essere più loquace, sperando di non essere stato troppo noioso e ringraziando soprattutto l'Istituto per l'impegno dimostrato e dell'accoglienza che ha ricevuto. È da marzo di quest'anno che Jeanne Yaman ha dato il via al suo tour graduale nelle città italiane per sensibilizzare i giovani. L'obiettivo dell'associazione Jeanne Yaman for Children è quello di fornire strumenti utili ai ragazzi ma anche alle loro famiglie per uscire più facilmente da situazioni di difficoltà e aiutare anche a modernizzare le strutture ospedaliere. Tra le varie tappe c'è stata quella di Sicilia che in occasione delle riprese della serie Viola come il mare girata a Palermo nel 2022 Jeanne Yaman aveva apprezzato per i luoghi rivelando anche di essersi molto divertito. Infatti il suo ultimo viaggio a Ragusa è terminato con una serata in discoteca dove ha dimostrato la sua umiltà e il suo carattere socievole regalando selfie ed autografi ai suoi fan. Ricordiamo che Jeanne Yaman è stato protagonista di Viola come il mare insieme a Francesca Chilleni e stando le prime indiscrezioni per la gioia del pubblico presto vedremo di nuovo insieme la copia della serie con la seconda stagione le cui riprese probabilmente inizieranno nell'estate di quest'anno. I nuovi episodi potrebbero arrivare alla fine del 2023 o all'inizio del 2024. È una delle serie più attese della prossima stagione. Il Palermo e la Sicilia torneranno ad essere protagoniste sul piccolo schermo con il nuovo appuntamento Mediaset. I due attori protagonisti Francesca Chilleni e Jeanne Yaman interpretano rispettivamente i personaggi di Viola Vitale e Francesco Demir. Vogliamo ricordare che la serie è ispirata al romanzo di Simona Tanzini. Conosci l'estate ed è stata girata tra Palermo, Mondello e Civita Castellana. Il trailer non è ancora uscito ma sarà certamente disponibile su Canale 5 come per la prima stagione, a due mesi dall'uscita. Per quanto riguarda la trama non è ancora stata svelata ma sicuramente riparterà dall'ultima puntata cioè da quando Viola Vitale scopre della morte del padre mentre Francesco Demir dopo essere riuscito a trovare la talpa della procura che depistava le indagini sul traffico di esseri umani salva Viola che viene rapita dall'impostore. Non ci resta che aspettare ma nel frattempo sembra essere confermato il cast originale formato da Viola Vitale, Francesca Chillemi, Francesco Demir, Jean Yaman, Farag, Kisan Wildor, Raniero San Martano, Romano Reggiani, Claudia Forensi, Simona Cavallai, Tamara, Chiara Tron, Turi, Dagata, Giovanni Nasta, Santo, Buscemi, Davide Cocco, Alex, Mario, Scerbo. Senza escludere delle eventuali novità. Le puntate andranno in onda ogni sera e saranno della durata di circa 50 minuti. Jean Yaman ha dichiarato di essere rimasto affascinato da Palermo affermando che è stato bellissimo e che quando ci ripensa gli viene in mente il sole per quanta energia emana la Sicilia. Aggiunge anche che quando hanno girato a Palermo per quelle quattro settimane anche se i primi giorni non era proprio limpido il cielo ha sempre un ricordo del cielo azzurro perché era troppo bello. Anche Francesca Chillemi si è espressa al riguardo affermando che l'amore della persona li ha totalmente sopraffatti e ogni giorno le persone li salutavano con uno sorriso portando loro anche tanto cibo e vari regali. Jean Yaman continua così dicendo di essere innamorato di Palermo perché è stato accolto in una grande famiglia. Hanno pernottato in un piccolo albergo del centro con tutto il cast e la troupe e gli è piaciuto studiare le sceneggiature in quella stanza. Hanno giocato a calcio divertendosi malgrado il lavoro ed è riuscito anche a farsi un bagno al mare nonostante i suoi fan lo seguissero ovunque. Inoltre ha aggiunto che nonostante il lavoro è riuscito a ritagliarsi qualche momento libero per cene e non dimenticherà mai perché è rimasto colpito della bontà degli arancini, dei cannoli, della caponata e tanto altro. Inoltre la Chillemi aggiunge un aneddoto. Jean Yaman era così entusiasta di far provare la sua bevanda turca preferita e famosa in Turchia a base di anice ma in realtà a lei non è piaciuta molto. Per chi non ha ancora visto la prima stagione della serie vi invito a farlo. Nel frattempo vi spiego brevemente la trama. La serie tratta le vicende di Viola, una giornalista e tv affetta da un disturbo della percezione. La sinestesia è da una malattia degenerativa che determina il suo modo di avvicinarsi alla realtà. Viola Vitale dopo essersi sempre occupata di comunicazione e di moda si trasferisce a Palermo dove farà di tutto per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Una volta giunta in città Viola inizia a lavorare per una redazione come giornalista di Cronaca Nera dove conosce l'ispettore capo di polizia Francesco De Mir, un uomo con un grande talento investigativo ma una scarsa fiducia nel genere umano. I due iniziano a lavorare insieme su casi di omicidio. Lei lavora come giornalista mentre Francesco lavora come poliziotto. Il video è terminato. Commentate cosa ne pensate e fateci sapere il vostro pensiero scrivendolo sotto nei commenti riguardo a quello che fa il bello e bravo Jean Yaman e se come noi siete anche voi in attesa della nuova stagione della serie Viola come il mare lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Vi saluto a presto con un altro contenuto.